Il popolo di Dio avrà presto quattro nuovi santi da venerare, tra i quali i genitori di Santa Teresa di Lisieux. Questa mattina Papa Francesco, nel corso del concistoro per il voto su alcune cause di canonizzazione, ha decretato che siano iscritti nell'albo dei santi quattro beati. Sono Vincenzo Grossi, sacerdote diocesano, fondatore dell'Istituto delle Figlie dell'Oratorio, beatificato dal beato Paolo VI nel 1975, Maria dell'Immacolata Concezione, religiosa, superiore generale della Congregazione delle Sorelle della Compagnia della Croce, beatificata nel settembre del 2010, e i laici Ludovico Martin e Maria Azzeria Guerin, genitori di Santa Teresa di Lisieux, proclamati beati nel 2008. I quattro saranno proclamati santi domenica 18 ottobre 2015, nel corso del Sinodo Ordinario dei Vescovi sulla Famiglia.